L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, nella conferenza pre-Como, partita poi vinta dagli azzurri per 3-1, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato, in particolare, di uno suo calciatore, lo scozzese Billy Gilmore. Quest'ultimo, in questa prima parte di stagione, si sta accontentando di pochi minuti al termine della partita per via dell'ingombrante presenza di Stanislav Lobotka. Dopo aver visto Lobotka-Gilmore insieme, se sarà possibile vedere anche Anghi Samek Tominey? Sono diversi, ho fortemente voluto Gilmore, oggi è il giocatore che mi sta mettendo anche in difficoltà perché è forte e non sta giocando, ma ha Lobotka davanti, ma stiamo parlando di uno forte, Billy Gilmore pupullo di Antonio Conte, L.O. scozzese apprezzato dal mister partenopeo che punta a fargli giocare il maggior numero di partite possibili in stagione. Gilmore è intelligente, vede subito la giocata, anche senza una struttura fisica imponente, è uno scozzese forte nei contrasti, nei recuperi, possono giocare insieme. McTominay e Frank insieme sono diversi invece in regia, possono giocare lì con un regista per la mia visione, poi può capitare in una gara fare legna in una parte, ma sono diversi. McTominay e Frank devono giocare con Lobo e Billy, partire insieme non credo. Lowi come duele è lì con un progetto fisica imponente. Hoje abbiamo un progetto fisica imponente, per la mia visione non credo, come E' una cosa più importante, perché è un progetto fisica imponente di Noi, non credo, non credo, sia un progetto fisica imponente. E' una cosa più importante, assicurazione di armi,psi più piccole e